Che cosa rimane indispensabile nel rapporto fra la tua persona e il paese nel quale vivi, la società nella quale vivi e lavori? Ma tutto, guarda. Mi sembra che le mie radici siano profondamente attanagliate qui, insomma, che io vivo e mi nutro di tutto quanto mi circonda e mi sembra poi di ripartorirlo, di ricrearlo. Posso dirti che fuori dal mio paese io divento infelice, non ho desideri, non ho memoria, non ho aggie, un paio d'occhi così che riflettono e registrano una serie di immagini caotiche, mi sento sperduto, mi sento sradicato, infelice, sto malissimo fuori.